maradona e medieveri signor di palermo ma ho un bagno in camera non ci sta e allora andate che noi abbiamo esigenze di fare un paolo sei romano due lettere no io ancora non ho capito se tu ci sei o ci fai ma tu hai capito quello che dobbiamo fare e com'è andato il viaggio sto parlando con te è andato bene è andato benissimo qua ci stanno i secchi lupero il maschietto e la superfemminuccia delicatezza e io ci sono andato delicato se tu intendi zoccola a pagamento non ci sono mai stato però sono stato fidanzato quattro anni con un grande zucculone che è più o meno la stessa vita un'aria malsana no più che malsana è proprio un piede te ne vai o no? scusate ma questo è senza acqua? ma che cos'è la purga? dieci minuti e questo stupore è sceso hai capito o no vedi che succede oggi? oggi Napoli prende un scudetto vedi? o giuccia vola scusate ma non funziona e io non mi sento la partita io ti sguardo stupore e mi prendo le mani e mi stifano hai capito? ma tu che ci fai con tutti sti soldi che ci danni? vai dai io devo pensare a mia figlia grazie 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 grazie